Ciao a tutti, video haul, quindi acquisti, prodotti ricevuti dall'azienda e anche qualche prodotto ricevuto in regalo perché appunto il 6 di novembre è stato il mio compleanno e quindi conoscendo tutti la mia passione ovviamente per cosmetici, make up eccetera nonostante io probabilmente non abbia assolutamente bisogno di nuovi prodotti, anzi forse non dovrai più averne perché veramente sono piena però tutti sanno che vanno un po' colpo sicuro, amici conoscono quelle che sono le mie wish list, poi sbirciano un po' magari sulle cose che pubblico le foto che pubblico perché molte volte appunto giustamente mettiamo i mi piace qui e lì, ne parliamo, insomma sanno che ho sempre desideri cosmetici sparsi e quindi ovviamente mi regalano delle cosine ad hoc, per cui vi faccio vedere che cosa mi sono comprata, che cosa ho ricevuto in regalo e sedetevi perché è una di quelle che si chiama mega haul perché c'è veramente, veramente, veramente di tutto vado random perché tanto così facciamo un misto fritto why con black friday? black friday sono stata buona, non ho praticamente comprato nulla per quanto riguarda l'abbigliamento per quanto riguarda il make up idem, non mi sono praticamente comprata nulla ma quando stavo tornando a casa, sono incappata in wicon, guarda tu, c'era il 20% di sconto e ho voluto provare delle cose della nuova collezione che non mi ricordo come si chiami comunque quella dove ci sono gli aqua shade che sono appunto questi prodotti qua, questi nuovi ombretti mi piacevano tantissimo anche altri colori, tanto che non so, forse almeno al viola probabilmente non resisterò e andrò a prendere pure quello, comunque ho voluto provare questi tre colori che adesso vi faccio vedere sono un po' indecisa se farvi gli swatch di tutto perché se no non la finiamo proprio più sono questi tre ombretti, ho preso il dorato, l'oro, sì oro, bronzo e marrone il marrone è molto particolare, è un marrone freddo quasi grigiastro ma sì, facciamo questi swatch, se no voglio dire che senso ha allora, aspettate, questo è l'oro, oddio, cioè è uno spettacolo, è una cosa spettacolare guardate, vedete, è veramente una roba acqua, sembrano bagnati poi questo qui è il bronzo, che è un bronzo con del rosa dentro, un bronzo, oh mamma mia cioè ragazze, sono qualcosa di allucinante, guardate riflettono talmente tanto la luce, vedete che, mamma mia e poi fanno un effetto freddo sulla mano, appena li mettete, sì sto girando al contrario appena li mettete su, sentite proprio questo gelo e poi questo è il marrone, che come vedete è un marrone freddissimo quasi grigio, ma è di un bello che, mamma mia cioè sono tre colori meravigliosi troppo, troppo, guardate qua si vede bene il riflesso di questo una volta che si fissano, ciao, non li smuovete assolutamente più allora riempio qua il sacchetto, così man mano butto via le confezioni le metto qua poi ho voluto provare questo rossetto, Rebel Heart rossetto extra matte nel numero 05 magenta la confezione è questa, penso che sia della collezione Rebel qualcosa quando era uscita la Rebel qualcosa, Romantic, credo di Kiko è uscita anche la Rebel qualcosa di Wicon tutte e due queste case hanno una fantasia e questo è uno di quei rossetti che ha quel packaging che mi fa intrazire, nel senso che lo detesto perché dopo un po' diventa appiccicoso è quel gommato che attira tutta la polvere che attira tutte le polveri e fa le macchie che dopo un po' diventa anche appiccicoso dopo magari tipo un annetto, così vabbè, comunque il colore e non mi piace nemmeno il taglio, così io amo i rossetti tagliati a rossetto classico però cioè vogliamo parlare del colore? guardate cosa è bellissimo vi faccio ovviamente lo swatch mamma mia guardate, no, cioè questa collezione cioè queste tre cose che ho pre, due cose quattro cose in tutto mi fanno impazzire è bellissimo bellissimo quindi numero 05 magenta della collezione extramato rebel heart poi nel tempo queste le ho prese da quando sono uscite le nuove tinte le tengo sempre qua perché ve le voglio sempre far vedere e poi mi perdo via ma ripeto di queste non vi faccio gli swatch perché voglio fare proprio un video dove faccio gli swatch di tutti i miei prodotti why con liquid lipstick quindi le tinte matte ho questi sei colori più credo nove dei colori vecchi quindi ne ho veramente tantissime e ho preso il numero dei nuovi colori ho preso il 20 fragola il 21 magenta il 29 marsala il 25 cremisi il 26 prugna e il 30 mattone e di queste ripeto insieme a tutte le altre che possiedo vi voglio fare gli swatch quindi non so se riuscirò a farle con applicazione sulle labbra perché è veramente una maratona però ragazze cioè è inutile che ve lo stia a dire questo è il mio prodotto 2015 il prodotto da un paio d'anni a questa parte che mi sia piaciuto in assoluto di più in genere nel make up non ne parliamo per quanto riguarda i prodotti labbra per me non hanno assolutamente rivali anche quella che ho in questo momento sulle labbra è sempre una tinta ma non mi ricordo come si chiama il colore forse è borgogna anche se di borgogna secondo me non ha nulla sì credo che sia borgogna io comunque queste tinte le amo questa qua comunque è il 30 questa qua è il numero 25 quindi 30 25 questo è il numero 05 vabbè non so perché sia qua questo è il numero 04 borgogna che è questa che ho qua questa è la numero 20 questa è la numero 21 e questa è la numero 26 lo so ve li ho fatte vedere mischiate perché probabilmente qualcuno di questi colori infatti il il 4 il 5 sì il 5 il 4 sono il borgogna e il 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 come si chiamava il 5 che non mi ricordo come si chiamasse sono vecchi colori comunque ho preso 6 nuove colorazioni che sono quelle di cui vi ho fatto vedere le scatoline di cui vi ho fatto vedere queste scatoline qua ma ripeto credo che sarà uno di quei video che farò questa settimana quindi farò i video di tutti gli swatch sia di queste 6 nuove che di tutte le altre che possiedo quindi labbra preparatevi e non sto neanche a farveli vedere qua così perché tanto insomma non è che dalla confezione si capisca tanto e qua comunque sono mischiate vecchie e nuove vi dico che le ho prese poi Kiko Kiko ultimamente non mi sta prendendo più di tanto la nuova collezione natalizia non c'è nulla che mi interessi cose secondo me trite ritrite i rossetti sono molto belli ma sono molti colori già visti non che non siano belli siano bellissimi ne comprerei anche altri ma tipo ne ho preso uno perché lo volevo provare e poi insomma gli altri no vedremo magari quei saldi eccetera ho preso comunque il 111 mi piace molto questo nuovo metodo di apertura mi sembra molto chic il colore è questo meraviglioso colore insomma della gamma che stiamo vedendo in tutti i canali e compreso il mio infatti secondo me somiglierà molto anche a quest'altro cioè non è che siamo questo è più rosso vedete questo ha molto più fucsia ma siamo lì la gamma è quella quindi il 111 che allora questo qua sotto mentre questo era quello di 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 quello di wicom devo dire che è già subito opaco vedete è sì un po' rimane sulle sulle labbra si sulle dita scusate se tamponate sopra ma devo dire che sembra bello abbastanza cioè è matt poi quindi chicco ve l'ho fatto vedere è anche wicom e lo metto qua i pennelli ecco mi sono arrivati due nuovi pennelli della Real Techniques quindi in questo caso sempre della linea Bold Metal erano i due che mi mancavano ormai li ho tutti quelli della linea Bold Metal e sono il Tapered Blush numero 300 se riesco ad aprire ve lo faccio vedere era uno di quelli che mi ispirava di più adesso ve lo faccio vedere dai su che puoi venire fuori io lo so che ce la puoi fare allora questo è il pennello meraviglioso viene sempre praticamente dovete pulire bene il pennello perché ha della colla però ha dello scotch vedete voi togliete lo scotch qua intorno al manico e ha sempre della colla un po' tutti nella confezione sono così ma una volta che voi togliete via dal manico del pennello lo scotch con il quale eccolo qua vedete con il quale il pennello avvolto e quindi la colla viene messa sullo scotch poi il pennello è allora l'altro pennello invece è il 202 Angled Liner quindi il pennello angolato da eyeliner ed è appunto questo qua ecco qua così si vede bene è appunto quello della linea Occhi che è fatto appunto con la metallo argento quindi questi sono i miei due nuovi bambini vi ricordo che siccome appunto lavoro per loro che sono arrivati in Rilascente anche in Coin e anche all'UVS trovate i pennelli della Real Techniques quindi finalmente non più online nonché so che anche varie bioprofumerie li hanno per esempio la mia amica Franci al profumeria Timiyama quindi insomma finalmente non dobbiamo ordinarli per forza online e io in questo momento sto lavorando per loro in Rinascente da qui a Natale farò un po' di giornate poi sono stata da MAC vi ricordate che avevo preso tempo addietro il rossetto che era quello Fashion Revival mi pare si chiamasse ed era praticamente lo stesso identico rossetto di Rebel identico a Rebel però anziché essere saten come Rebel era Matt ora io non volevo due rossetti praticamente identici non che non ne abbia identici ma proprio quelli là mi sembravano veramente uguali se non fosse per il finish e quindi alla fine ho cambiato il rossetto Fashion Revival con Dark Side che è un Amplified è uno dei finish che mi piace l'Amplified insieme al Saten e insieme al Matt gli altri Cream Sheen eccetera e Frost non mi piacciono questo è il colore adesso ve lo swatcho sembra magari a fianco a questi altri ed ecco qua Dark Side bellissimo cioè è uno di quei rossetti assimilabili a Diva per intenderci una gamma di colore un rosso che è molto scuro che ha molto mattone all'interno molto marrone all'interno bellissimo stupendo meraviglioso e questo ve l'ho fatto vedere poi ovviamente grazie alla mia amica Alida e a tutta la sua congrega quando avevo preso questi rossetti qua i Velvet Lipstick di Deborah avevo preso il 2 il 3 e il 4 e tutte no non puoi non prendere l'uno l'uno è bellissimo l'uno è fotonico l'uno è fantastico va bene ho preso pure l'uno perché praticamente da 8 euro 9 euro quasi che erano in vendita avevo lo sconto del 10% alla Upim con la Popcard poi in più li hanno scontati non mi ricordo per quale motivo c'era un giorno in cui alla Upim erano scontati ancora di più insomma l'ho pagato 5 euro e qualcosa e quindi alla fine ho preso pure il numero 1 perché tutti appunto a dirmi che era bellissimo e lo mettiamo qua molto 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 cremoso eccolo qua è questo centrale quindi l'unica cosa che mi piace di questi rossetti è questa punta che fuori esce che trovo veramente terribile ho sempre paura di mozzare a metà il rossetto però ecco questi rossetti mi piacciono tantissimo e devo dire che anche il numero 1 è un bellissimo colore e poi ho preso qualcosina della collezione Mary Berry di Essence che in realtà ero andata perché volevo i rossetti ma i rossetti erano tipo introvabili e quindi ho preso lo smalto che mi sembra veramente molto carino a partire dal packaging molto 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 carino meno bambinesco del solito ed è questo bellissimo color viola Berry e che si chiama appunto credo no non è niente di Berry nel nome ma è pink and perfect molto carino poi sempre i soliti prezzi di Essence cos'è 2 euro e rotti lo smalto poi ho preso uno dei due ombretti l'altro è una specie di marroncino doratino ho preso questo perché vabbè la fissa del prugna bla bla anche oggi ho un prugna negli occhi non è questo ma è credo quello della Catrice questo qua che ve l'avevo fatto vedere quando avevo fatto il spacchettamento dei prodotti che mi erano stati omaggiati e ve l'avevo detto che man mano ve li facevo vedere applicati ecco questo che vedete qua alla fine dell'occhio è il colore più scuro e c'è anche un pochino del colore più chiaro è un po' questa palettina che ho oggi sugli occhi molto carina così l'abbiamo buttata dentro e dicevo ho preso il colore viola prugna della collezione Mary Berry che è lo 02 è The Masked Ball eccolo qua vi faccio uno swatch velocissimo così sul dito ma si lo mettiamo anche qua sembra abbastanza farinoso ma insomma è un ombrettino essence da pochi euro eccolo qua un bel viola particolare di quelli che mi piacciono in questo periodo e poi ho voluto provare l'illuminante perché mi sembrava veramente strong veramente un bel illuminante si chiama 01 I Love My Golden Pumps eccolo qua molto carina la trama guardate tutte le stelline e ho provato perché c'era appunto un tester guardate molto 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 riusciranno i nostri eroi sì molto luminoso vedete guardate come adesso proviamo a metterlo tipo qua sembra veramente estremamente pigmentato lo vedete adesso qua ho sporcato di viola col dito però vedete qua si vede l'illuminante l'illuminante ed è veramente molto molto pigmentato poi sempre allo stesso giorno in cui ho preso le cosine di essence ho preso una nuova pochette perché avevo bisogno perché ne ho pochette ma pian piano si stanno veramente tutte un po' invecchiando quindi pian piano le butterò via quando le vedo insomma rovinate le cestino perché sennò per affezione non me ne libererei e sono queste di questa linea sciacca costano 6 euro e 99 e sono così con la sezione appunto rettangolare non voglio di toccarla perché secondo me l'è impiastriccio un po' e c'è così di questo colore verde menta tifani come lo vogliamo chiamare poi c'è giallina pastello arancio pastello e rosa pastello sempre molto tenui con delle diverse scritte ma comunque tutte così con queste scrittine dorate poi cosa ho comprato vice ma lo sapete già perché vi ho fatto il video nel caso ve lo lascio si vi faccio vedere la vice 2 no la vice 4 scusate sono andato che le ho tutte e due qua perché le sto usando in questi giorni abbastanza quindi appunto la vice 4 e niente ragazze io più o meno vi ho detto tutto ci sono anche altre cosine ma tanto ve ne parlerò in video a parte per esempio tutta la nuova collezione artica di Nabla che ho ricevuto e quindi che vi volevo far vedere alcune cose che ho preso quando sono andata all'East Market ci sono delle cose che devo far vedere però insomma diventa un video veramente lungo questi saranno i miei soliti tipo 30 minuti per cui direi che è il caso di chiudere qua vi ho fatto vedere una marea di roba e quindi ci vediamo ai prossimi video vi mando un bacio e spero di avervi tenuto compagnia ciao ciao